Annabeth Annabeth rimpianse di non avere appetito, perché quanto al cibo. I romani sapevano decisamente il fatto loro. Divanetti e tavolini furono disseminati nel foro, fino a farlo assomigliare al salone di un mobilificio. I romani vi si sistemarono a gruppi di 10 o 20, parlando e ridendo, mentre gli spiriti del vento, le aure, sfrecciavano nel cielo e servivano una varietà infinita di pizze, sandwich, patatine, bibite e biscotti appena sfornati. Tra la folla si muovevano fantasmi violacei, illari, vestiti con la toga o con l'armatura da legionari. Ai margini del banchetto, i satiri, no, i fauni, si disse Annabeth, trotterellavano di tavolo in tavolo, mendicando cibo e spiccioli. Nei prati vicini, l'elefante da guerra giocava allegramente con la signora O'Leiri, mentre i bambini si inseguivano intorno ai busti di Terminus che segnavano i confini della città. L'intera scena era così familiare e tuttavia così aliena agli occhi di Annabeth, da farle venire le vertigini. Non avrebbe voluto altro che stare con Persi, possibilmente da sola, ma sapeva di dover aspettare. Per il successo di quell'impresa avevano bisogno di romani, e questo significava conoscerli e costruirci un buon rapporto. Reina e qualche altro ufficiale, incluso Ottaviano, reduce dal sacrificio di un orsacchiotto, si sedettero con Annabeth e il resto dell'equipaggio. Persi li raggiunse con i suoi due nuovi amici, Frank e Hazel. Mentre un tornado di vassoi si posava sulla tavola, Persi si sporse a bisbigliare «Voglio portarti a fare un giro per Nuova Roma, solo io e te. Questo posto è incredibile». Annabeth avrebbe dovuto essere felicissima. Solo io e te era proprio quello che desiderava. Eppure una fitta di risentimento le serrò la gola. Come poteva parlare con tanto entusiasmo di quel posto? E il campo mezzosangue allora? Il loro campo, casa loro! Si sforzò di non fissare i nuovi segni sul braccio di Persi, il tatuaggio con le lettere SPQR, come quello di Jason. Al campo mezzosangue i semidei ricevevano una collana di perline per commemorare gli anni di addestramento. Lì invece i romani ti marchiavano a fuoco, come a dire «Tu appartieni a noi, per sempre». Annabeth soffocò un commento pungente. «Va bene. È da un po' che ci penso e…» Continua Persi, un po' imbarazzato. «Mi è venuta questa idea e…» Fu interrotto dal brindisi di Reina dedicato all'amicizia. Dopo le presentazioni, i romani ed equipaggio di Annabeth cominciarono a raccontarsi le rispettive avventure. Jason spiegò come era arrivato al campo mezzosangue dopo aver perduto la memoria e riferì della missione che aveva affrontato con Piper e Leo per salvare la dea Hera, o Giunone, tanto greca o romana che fosse, era irritante lo stesso, dalla sua prigione alla casa del lupo. «Impossibile!» intervenne Ottaviano. «È il nostro luogo più sacro. Se i giganti vi avessero imprigionato una dea…» «L'avrebbero distrutta», continuò Piper al posto suo. «E poi avrebbero dato la colpa ai greci, facendo scoppiare la guerra tra i due campi. Ora lascia finire Jason!» Ottaviano aprì la bocca per replicare, poi la richiuse. Annabeth adorava la lingua ammaliatrice dell'amica. Notò che Reina lanciava molto occhiate a Jason e Piper, con la fronte aggrottata, come se avesse appena cominciato a rendersi conto che i due stavano insieme. «È stato in questo modo che abbiamo saputo di Gea, la dea della terra», riprese Jason. «È ancora mezzo addormentata, ma è lei a liberare i mostri dal tartaro e a far risorgere i giganti. Il loro re Porfirio, contro cui ci siamo battuti alla casa del lupo, ha detto che si stava ritirando nelle antiche terre, in Grecia. Conta di risvegliare Gea e distruggere gli dei…» «Come che ha detto? Estirpandogli alle radici!» Percy annui, serio in viso. «Gea si è data da fare anche qui. Anche noi abbiamo avuto il nostro incontro con lei». Riferì la sua parte della storia. Raccontò di essersi svegliato nella casa del lupo senza ricordi, fatta eccezione per un solo nome, Annabeth. A quelle parole, la figlia di Athena dovette sforzarsi per non piangere. Percy raccontò del viaggio in Alaska con Frank e Hazel, di come avevano sconfitto il gigante Alcione e liberato Thanatos, per poi tornare con l'aquiladoro simbolo della legione e respingere l'assalto dell'esercito dei giganti. Quando abbe finito, Jason fece un fischio di ammirazione. «Non c'è da stupirsi che ti abbiano nominato pretore!» Ottaviano sbuffò. «E adesso abbiamo tre pretori! Le regole stabiliscono chiaramente che possiamo averne soltanto due!» «Considera il lato positivo!» replicò Percy. «Io e Jason adesso siamo entrambi i tuoi superiori! Perciò possiamo ordinarti in due, di chiudere il becco!» Ottaviano diventò viola come la maglietta, mentre Jason e Percy si scambiavano un cinque. Perfino Reina sorrise, anche se i suoi occhi erano inquieti. «Dovremo affrontare in un altro momento la questione del pretore in esubero», suggerì. «Adesso abbiamo problemi più importanti!» «Io mi faccio tranquillamente da parte», disse Percy rilassato. «Non è tutto questo che!» «Non è tutto questo che!» Ottaviano sembrava sconvolto. «La carica di pretore di Roma non è tutto questo che!» Percy lo ignorò e si rivolse a Jason. «Tu sei il fratello d'Italia Grace, eh? Cavolo, non vi somigliate per niente!» «Sì, l'ho notato», confermò lui. «Comunque, grazie di aver aiutato il mio campo mentre non c'ero. Hai fatto un ottimo lavoro!» «E tu lo stesso», ribatte Percy. «Anna bettegli mollò un calcio in uno stinco. Non voleva interrompere quell'idiglio di amicizia virile, ma Reina aveva ragione. C'erano delle questioni serie di cui discutere. Dovremmo parlare della grande profezia. Anche i romani la conoscono, vero?» «Reina annui. Noi la chiamiamo profezia dei sette». «Ottaviano, la conosci a memoria?» «Naturalmente, ma Reina, recitala per favore, ed evita il latino». Ottaviano sospirò. «Sette mezzo sangue alla chiamata risponderanno. Fuoco, tempesta, il mondo cadere faranno». «Con l'ultimo fiato, un giuramento si dovrà mantenere», continuò Annabeth. «E alle porte della morte, i nemici armati si dovranno temere». Tutti la fissarono con gli occhi sgranati. Tutti tranne Leo, che aveva costruito una girandola con i fogli d'allumino dei tacos e cercava di farla girare infilandola tra le auree di passaggio. Annabeth non sapeva perché avesse tirato fuori così all'improvviso i versi della profezia. Le era venuto spontaneo. Frank si sporse un po' in avanti. La guardava affascinato, come se le fosse spuntato un terzo occhio in fronte. «È vero che sei una figlia di Miner... cioè di Atena?» «Sì», confermò lei sulla difensiva. «Che c'è da sorprendersi tanto». Ottaviano fece un verso di scherno. «Se sei davvero figlia della dea della saggezza, basta», tagliò Cortoreina. «Annabeth è quello che dice di essere. È venuta qui in pace». E poi la squadrò con un'espressione di burbero rispetto. «Persi mi ha detto grandi cose di te». Persi abbassò lo sguardo, mostrando un improvviso interesse per il proprio cheeseburger. Annabeth ci mise qualche attimo a decifrare fino in fondo quel gesto e il tono della voce di Reina. Si sentì il volto in fiamme. «Oh dèi, Reina ci ha provato con Persi!» Ecco cos'era quella punta di amarezza, forse perfino di invidia nelle sue parole. Persi l'aveva rifiutata per lei. In quell'istante Annabeth perdonò a quel buffone del suo ragazzo qualunque cosa avesse mai fatto di storto. Avrebbe voluto gettargli le braccia al collo, ma si impose di mantenere la calma. «Grazie», disse a Reina. «Comunque, una parte della profezia si sta facendo più chiara. I nemici armati alle porte della morte? Beh, sono i greci e i romani. Dobbiamo unire le forze per trovare le porte». Eisel raccolse qualcosa accanto al suo piatto. Sommigliava a un grosso rubino, ma prima che gli altri potessero esserne certi, lo fece sparire nella tasca della camicia di jeans. «Mio fratello Nico è andato a cercarle». «Nico di Angelo?» domandò Annabeth stupita. «È tuo fratello». Eisel annuì come se fosse ovvio. Mille domande affollarono la mente di Annabeth, che però già turbinava come la girandola di Leo. Decise di non approfondire. «Ok, stavi dicendo? È scomparso». Eisel si inumidì le labbra. «Ho paura che... non ne sono sicura, ma credo che gli sia successo qualcosa». «Lo cercheremo», promise Persi. «In ogni caso, dobbiamo trovare le porte della morte». Thanatos ci ha detto che avremmo avuto entrambe le risposte a Roma, quella vera. Così ci avviciniamo anche alla Grecia, no? Ve l'ha detto Thanatos? Annabeth cercò di metabolizzare il concetto. Il dio della morte. Aveva conosciuto molti dèi. Era perfino stata negli inferi. Ma il fatto che Persi e gli altri avessero liberato l'incarnazione stessa della morte le dava molto più che i brividi. Persi addentò il cheeseburger. Ora che è di nuovo libero, i mostri si disintegreranno e ritorneranno nel tartaro come prima. Ma finché le porte della morte restano aperte, continueranno a tornare. Piper giocherellò con la penna d'aquila che aveva tra i capelli. Come se le porte fossero una diga e ci fossero delle falle. Esatto. Il punto è che dobbiamo trovare le porte e chiuderle prima di puntare verso la Grecia. Solo così possiamo avere almeno una possibilità di sconfiggere i giganti e fare in modo che restino sconfitti. Reina prese al volo una mela da un vassoio di passaggio. Se la rigirò tra le dita, studiando nella superficie rossa. State proponendo una spedizione in Grecia a bordo della vostra nave da guerra. Vi rendete conto che le antiche terre e il mare Nostrum sono pericolosi. Il mare che? domandò Leo. Il mare Nostrum, ripete Jason. È così che gli antichi romani chiamavano il Mediterraneo. Reina, noi. Il territorio che un tempo era l'impero romano non è soltanto il luogo di nascita degli dèi. È anche la dimora ancestrale di mostri, giganti e di cose peggiori. Per quanto sia pericoloso per i semidei viaggiare qui in America, America. Là lo è dieci volte di più. Avevi detto che pure l'Alaska sarebbe stata molto pericolosa, le fece notare Persi. Ma siamo sopravvissuti. Reina scosse la testa. Si girò la mela tra le mani, lasciando con le unghie piccole mezzelune nella buccia. Viaggiare nel Mediterraneo rappresenta un livello di pericolo totalmente diverso. Sono secoli che è territorio proibito per i semidei romani. Nessun eroe sano di mente. Vi metterebbe piede. Allora noi siamo perfetti. Leo sorrise da sopra alla girandola. Siamo tutti pazzi, giusto? E poi Largo 2 è una nave da guerra di ultimissima generazione. Riusciremo a passare. Dobbiamo sbrigarci, aggiunse Jason. Non so cosa stiano architettando di preciso i giganti, ma Gea si fa ogni istante più cosciente. Invade i sogni, compare nei posti più assurdi, rievoca mostri sempre più potenti. Dobbiamo fermare i giganti, prima che riescano a svegliarla del tutto. Annabeth rapprividì. Anche lei aveva avuto la propria buona dose di incubi negli ultimi tempi. Sette mezzosangue alla chiamata risponderanno, recitò. Deve per forza essere un gruppo misto di entrambi i campi. Io, Jason, Piper e Leo. Siamo quattro. Poi ci sono io, continuò Percy, insieme a Hazel e Frank. E siamo sette. Cosa? Ottaviano scattò in piedi. E noi dovremmo accettarlo così, come se niente fosse? Senza il voto del Senato? Senza un adeguato dibattimento? Senza... Percy! Il ciclope Tyson corse da loro, con la signora O'Leary alle calcagna. Sulla groppa del segugio infernale era appollaiata l'arpia più scheletrica che Annabeth avesse mai visto. Una ragazzina dall'aria malaticcia, con i capelli rossi e radi, un vestito fatto di tela da sacchi e le ali dal piumaggio rosso. Annabeth non sapeva da dove saltasse fuori quella creatura, ma le si scaldò il cuore, alla vista di Tyson, con la sua felpa e i jeans malconci e il bavaglino SPQR sul petto. Aveva avuto qualche brutta esperienza con i ciclopi, ma Tyson era un tesoro. Ed era anche il fratellastro di Percy, lunga storia. Perciò, in pratica, erano quasi parenti. Tyson si fermò accanto al divanetto e intrecciò le grosse mani. «Ella ha paura?» esclamò. «Bah, bah, basta, barche!» borbottò l'arpia, becchettandosi freneticamente le piume. «Titanic, Lusitania, Pax! Le barche non vanno bene per le arpie!» Leo socchiuse gli occhi. Guardò Hazel, che era seduta accanto a lui. «Sbaglio o questa specie di pollo va appena paragonato la mia nave al Titanic?» «Non è un pollo.» Hazel distolse lo sguardo, come se Leo la rendesse nervosa. «È un'arpia. È solo... ipersensibile.» «Ella è carina e ha paura!» aggiunse Tyson. «Dobbiamo portarla via, ma non vuole prendere la nave.» «Niente navi!» ripete Ella. Guardò Annabeth dritto negli occhi. «Sfortuna! Eccola qui!» «La figlia della saggezza da sola camminerà.» «Ella!» Frank si alzò di scatto. «Forse non è il momento di... il marchio di Atena su Roma brucerà!» continuò Ella, tappandosi le orecchie con le mani e alzando la voce. «Il respiro dell'angelo che ha la chiave dell'eterna morte, i gemelli soffocheranno, se lo vorrà la sorte. La rovina dei giganti si erge pallida e dorata, e sarà vinta col dolore in una prigione intricata.» Fue come se qualcuno avesse lanciato una bomba a mano sul tavolo. Tutti fissavano a occhi sgranati l'arpia. Nessuno apriva bocca. Il cuore di Annabeth batteva all'impazzata. «Il marchio di Atena!» resistette all'istinto di infilarsi la mano in tasca, ma percepì lo stesso la moneta d'argento che si scaldava. «Il dono maledetto di sua madre!» «Segui il marchio di Atena! Vendicami!» Intorno a loro tutti i rumori del banchetto c'erano ancora, ma ovattati e distanti, come se quel gruppetto di divani fosse scivolato in una dimensione più quieta. Persi fu il primo a riscuotersi. Si alzò e prese Tyson per il braccio. «So io cosa fare!» esclamò, fingendo entusiasmo. «Perché non porti Ella a prendere un po' di aria fresca? Portati la signora O'Leary e... Aspetta un attimo!» Ottaviano afferrò uno degli orsacchiotti, strangolandolo con le mani tremanti. «Punto gli occhi su Ella!» «Cos'è che ha detto?» «Sembrava quasi...» «Ella legge moltissimo!» si affrettò a dire Frank. «L'abbiamo trovata in una biblioteca!» «Sì!» confermò Hazel. «Probabilmente era solo qualcosa che ha letto in un libro!» «Libri!» borbottò Ella in tono servizievole. «A Ella piacciono i libri!» Ora che aveva recitato la sua parte, l'arpia sembrava più rilassata. Si sedette a gambe incrociate sulla groppa della signora O'Leary e cominciò a lisciarsi le penne. Annabeth lanciò persi un'occhiata incuriosita. Quei tre stavano nascondendo qualcosa, era chiaro. Così come era chiaro che Ella aveva appena recitato una profezia che la riguardava. L'espressione di Persi diceva «Aiuto! Quella era una profezia!» insistette Ottaviano. «Sembrava proprio una profezia!» Nessuno fiatò. Annabeth non sapeva di preciso cosa stesse accadendo, ma capì che Persi stava per ritrovarsi nei guai. Scoppiò a ridere. «Davvero, Ottaviano? Forse le arpie sono diverse, guidavo i romani. Le nostre hanno un cervello appena sufficiente per fare le pulizie e cucinare. Le vostre predicono il futuro? Le consulti per i tuoi auguri?» Quelle parole ebbero l'effetto desiderato. Gli ufficiali romani risero nervosamente. Qualcuno scrutò Ella, poi guardò Ottaviano e fece un verso di scherno. A quanto pareva, l'idea che una specie di grosso pollo annunciasse le profezie, era ridicola per i romani come per i greci. «Io…» Ottaviano lasciò cadere l'orsacchiotto. «No, ma, come ha detto Hazel, non fa altro che ripetere a casaccio quello che ha letto in chissà quale libro», continuò Annabeth. «E poi abbiamo già una profezia di cui preoccuparci». Si voltò verso Tyson. Persi ha ragione. Perché non porti Ella da qualche parte attraversando le tenebre con la signora O'Leary? Ella che dice. «I cani grossi sono bravi cagnoni», mormorò l'arpia. «Sanna gialla, 1957. Ceneggiatura di Fred Gibson e William Thunberg». Annabeth non sapeva come prendere la risposta, ma Persi sorrise come se il problema fosse risolto ed esclamò «Fantastico! Vi manderemo un messaggio iride quando avremo finito. Ci vediamo dopo!» I romani guardarono Reina in attesa dei suoi ordini. Annabeth trattenne il fiato. «Va bene», disse infine il pretore. «Andate!» «Evviva!» Tyson fece il giro dei divanetti e abbracciò tutti i presenti, incluso Ottaviano, che non sembrò molto felice del gesto. Poi salì in groppa al segugio infernale con Ella e insieme corsero via dal foro a grandi valzi. Si tuffarono direttamente in un'ombra del muro del senato e scomparvero. «Bene», Reina posò la mela sul tavolo. «Ottaviano, però, ha ragione su un punto. Dobbiamo avere l'approvazione del senato per inviare dei nostri legionari in missione, soprattutto per una missione pericolosa come quella che suggerite voi». «Tutta questa faccenda puzza d'inganno», prontolò Ottaviano. «Quella trireme non è certo una nave pacifica». «Allora vieni a bordo, amico», propose Leo. «Ti faccio fare il giro. Puoi anche guidarla. E se sarai bravo, ti regalerò un cappellino da capitano». Ottaviano dilettò le narici, sdegnato. «Come osi! Buona idea», approvò Reina. «Ottaviano, va con lui. Vai a vedere la nave. Convocheremo una seduta del senato tra un'ora». «Ma...» Ottaviano aggrottò la fronte. L'espressione di Reina suggeriva chiaramente che era meglio non mettersi a discutere, per il suo bene. «D'accordo». Leo si alzò, si voltò verso Annabeth e il suo sorriso cambiò. Fu una cosa così rapida che Annabeth pensò di averlo solo immaginato. Ma per un attimo fu come se qualcun altro avesse preso il posto di Leo, qualcuno che le sorrideva freddamente con una luce crudele negli occhi. Poi Annabeth strizzò le palpebre e Leo era il solito vecchio Leo, con il suo sorriso da folletto. «Torniamo subito», promise il figlio di Efesto. «Sarà un mito, vedrai». Un'orribile sensazione di gelo assali a Annabeth. Mentre Leo e Ottaviano si allontanavano verso la scaletta di Corda, ebbe quasi la tentazione di richiamarli. Ma come l'avrebbe spiegato? Dicendo a tutti che stava impazzendo, che vedeva le cose e aveva freddo? Gli spiriti del vento cominciarono a sparecchiare. «Reina, se non ti dispiace, prima della seduta vorrei portare Piper a fare un giro», disse Jason. «Non ha mai visto Nuova Roma». L'espressione di Reina si indurì. Annabeth si chiese come facesse Jason a essere così stupido. Possibile che non capisse quello che Reina provava per lui. Era talmente ovvio. E invece spargeva sale sulla ferita, chiedendole il permesso di portare la sua nuova ragazza a fare un giro. «Ma certo», rispose lei freddamente. Percy prese la mano di Annabeth. «Beh, anch'io vorrei...» «No», disse Reina. Percy si accigliò. «Come dici, scusa?» «Vorrei scambiare due parole con Annabeth», chiarì Reina. «Da sola, se non ti dispiace, pretore». Ma dal suo tono era evidente che non stava davvero chiedendo il suo permesso. Il gelo risalì la schiena di Annabeth. Si chiese cosa Reina avesse in mente. Forse non le piaceva l'idea che ben due ragazzi che l'avevano rifiutata se ne andassero in giro per la città con le fidanzate. O forse aveva davvero bisogno di dirle qualcosa in privato. In ogni caso, Annabeth era un po' riluttante all'idea di restare sola e disarmata con il comandante dei Romani. «Vieni, figlia di Atena!» Reina si alzò. «Facciamo due passi». L' carne, lo s'argo di Atena! Au reina! L' carne, lo risalza, v85. E' unβile